Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ad Aprilia, si è svolta una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina per dare esecuzione ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino, su richiesta della Locale Procura della Repubblica e la DDA, che dispone di misure cautelari nei confronti di 25 persone, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un'associazione mafiosa radicata nella città pontina, finalizzata alla consumazione di estorsione, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti. Più in particolare nel corso delle attività d'indagine, avviata nel marzo 2018 dalla Direzione Investigativa Antimafia Centro Operativo di Roma, con il supporto dall'ottobre dello stesso anno del reparto territoriale dei Carabinieri di Aprile e sotto il coordinamento della DDA romana, sono state raccolte significative evidenze in merito all'esistenza di un sodalizio criminale di natura mafiosa che opera sul territorio apriliano e nei comuni limitrofi, il quale, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, aveva come finalità di commettere numerosi delitti, come il traffico di sostanza stupefacente e di estorsione aggravata, la rapina con lesioni minacce, utile ad imporsi sul territorio per ottenere il sostentamento di affiliati detenuti, usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria nei confronti di commercianti ed imprenditori della cittadina di Aprilia per somme di denaro cospicue e con l'imposizione di tassi usurari, detenzione porto di armi utile alla consumazione dei reati e il mantenimento del controllo del territorio e ribadire la superiorità del sodalizio, acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione e comunque il controllo delle attività economiche, gli appalti di servizi pubblici ed ostacolare il libero esercizio del voto.